Ciao, sono Davide Nempia e vorrei comunicarvi che sono aperte le iscrizioni al corso di recitazione della Fonderia delle Arti. Da quest'anno i nostri corsi sono riconosciuti dalla Regione Lazio, ecco perché alla fine del corso vi verrà rilasciato un attestato professionale. Ovviamente quest'anno abbiamo deciso di organizzare anche delle audizioni a distanza. La nostra sede riaprirà il 31 agosto, ma se siete interessati io vi invito ad inviare la vostra candidatura con un video, che potete fare con il vostro smartphone o con la vostra telecamera digitale. L'importante è iniziare il video con una breve presentazione, raccontateci qualcosa di voi, diteci chi siete, le vostre aspirazioni, la vostra storia e subito dopo un monologo o una scena tratta da un film. Inviate il tutto all'indirizzo amministrazione-fonderia-delle-arti.com e ricordatevi di inserire anche il vostro nome, cognome, numero di telefono e il vostro indirizzo mail. Verrete poi ricontattati per un eventuale incontro in sede. Per ogni informazione visitate il sito www.scuoledicinema.net. Ci vediamo in video.